In questo caso, denti fissi con sistema bocca bionica, paziente che non aveva più i denti nell'arcata superiore, abbiamo ristabilito tutto il sorriso con il nostro sistema, che ora ti mostro. Questa era la situazione di partenza, la paziente aveva già tanti impianti con i denti incollati sopra, questa paziente era stata truffata, erano stati messi degli impianti con dei denti incollati sopra, ovviamente questi erano impianti tutti da rimuovere. Abbiamo eseguito la chirurgia, posizionato dei provvisori, messo degli impianti bifasici con anche impianti pteriguidei, questo è il grafico 3D del tipo di intervento che è stato eseguito, quindi impianti convenzionali nella parte anteriore, più impianti pteriguidei speciali nelle zone posteriori e su di questi entrambe le arcate avvitate. La paziente ha aspettato la guarigione dei tessuti, qua vedi sulla sinistra, sulla destra, la situazione di partenza, tutti gli impianti per mettere poi i denti incollati sopra, li abbiamo svitati, abbiamo messo in posizione corretta gli impianti, il giusto numero di impianti e rimosso anche le radici che erano rimaste in parodontite. Abbiamo eseguito un design con i volumi dei denti che avremmo voluto ricreare, una volta approvati abbiamo testato all'interno della bocca della paziente le prove delle forme dei denti che avremmo voluto realizzare, queste sono delle stampe in plastica, dei draft delle prove che vengono poi buttate, servono solo a verificare la corretta composizione dentale, dove dovranno andare a essere posizionati i denti. Una volta approvato abbiamo creato i denti definitivi, qua vedi due linee superior, denti iperrealistici con gengive in composito e denti in zirconio, denti iperrealistici che permettono di simulare lo smalto naturale, la gengiva simula i tessuti ossei perduti e ci permette di mettere tra le labbra in corretta posizione i denti. In questo ci ha sicuramente aiutato la prova di test che abbiamo fatto, tutto il passaggio che viene fatto di test è fondamentale per andare a ottenere poi il risultato perfetto. Abbiamo a questo punto con i materiali artificiali simulato i denti definitivi, una copia di backup di questi denti la paziente ce l'avrà in cloud, guarda l'iperrealismo di questi denti. Nessuno può distinguere questi denti da dei denti naturali, non voglio assolutamente dire che questi sono dei denti artificiali. Questo perché viene lavorata la superficie dello zirconio in maniera tale che sia iperrealistica, lo stesso a livello delle gengive.